Sarebbero circa 15 milioni di fondi pubblici che solo l'aslo di Pescara avrebbe su vari fronti sprecato. Lo ribadisce con forza il vicepresidente del Consiglio regionale e consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Domenico Pettinari che parla di un peso ancora più grande per quei cittadini che devono subire taglia ai servizi e malfunzionamenti giustificati troppo spesso con l'alibi della mancanza di fondi per strutture e attrezzature. Mi riferisco al polifunzionale RX che è un'apparecchiatura per fare i raggi che è stata acquistata nel lontano 2013 e lasciata in abbandono presso il distretto sanitario di base di Pescara Nord. Abbandono soldi pubblici pagati lasciata così in uno stato di faticenza. Mi riferisco alla PET-TAC, quell'apparato che serve per la diagnostica oncologica che ci costa da oltre 10 anni 5.000 euro al giorno. Avete sentito bene 5.000 euro al giorno di affitto, abbiamo pagato oltre 10 milioni di euro di affitto per un'apparecchiatura che ad acquistarla sarebbe costato un milione e mezzo di euro. Quindi immaginate quanti soldi avremmo potuto risparmiare. E non ultimo all'acquisto in cauto che fece la AS di Pescara di una palazzina a 3 milioni di euro è lasciata in abbandono, in uno stato di estrema faticenza. Allora io chiedo con forza e pretendo, è il mio dovere istituzionale, incalzare l'amministrazione attiva, il governo di centrodestra, cosa intende fare questo governo? Io chiedo di intervenire subito, immediatamente, al Presidente Parsiglio, all'assessore regionale della sanità per obbligare le aziende sanitarie a riattivare quell'apparato per fare i raggi e quindi smaltire le liste d'attesa. Perché se lo riattiviamo possiamo smaltire tante liste d'attesa, ad attivare quella palazzina, utilizzarla e magari ad acquistare subito la PetTac perché mi risulta essere stata fatta una gara d'appalto, essere stata anche aggiudicata la fornitura ma quell'apparecchiatura viene ancora detenuta in affitto.